Con una cena informale presso il Circolo Bugiani di Pistoia, gli organizzatori della Biciclettata della Salute tenutasi lo scorso 14 settembre hanno consegnato il ricavato della manifestazione di circa 15.000 euro alle tre associazioni scelte quest'anno, ovvero la Fondazione Mike, l'Associazione Il Sole e l'Associazione Mofema. Una serata durante la quale le tre associazioni si sono incontrate e confrontate e dove soprattutto hanno presentato le loro proposte per investire fondi ricavati dalla biciclettata. La Fondazione Mike, come già dichiarato da tempo, investirà i fondi per il nuovo centro di riabilitazione in via San Biagio, un'opera all'avanguardia, unica in Toscana ma strettamente legata al percorso e ai valori che da sempre sono riconoscibili nelle persone che hanno costruito questa importante associazione. L'Associazione Il Sole, invece, che si occupa principalmente dei ragazzi portatori della sindrome di Down, continuerà la propria azione sul territorio della provincia di Pistoia come ha fatto fino ad oggi, con la realizzazione di opuscoli per l'inserimento scolastico e l'apertura di uno sportello presso l'ospedale Saiacopo per aiutare ad indirizzare le famiglie su di un percorso più consono alle proprie esigenze. Infine Mofema, la piccola associazione nata in memoria di Mari Capratesi Innocenti, che con la presenza dei genitori Mario e Federica si impegna a creare aiuti concrete a tutte quelle persone che, come loro, si sono ritrovate ad avere un componente gravemente ammalato. Momenti drammatici durante i quali anche solo una spesa alla settimana o il pagare una bolletta può dare un attimo di respiro nei momenti più grigi. Anche il Circolo Bugiani ha contribuito alle varie cause donando all'associazione il ricavato della cena di circa 500 euro. Una serata importante con tre associazioni che operano per il territorio e sul territorio e che, grazie alla goliardia della biciclettata e la bontà dei pistoiesi, possono fare dei grandi passi per la realizzazione dei loro progetti.